e amiche ed amici del calcio a cinque ben trovati con appunto cinque speciale serie C due oggi siamo a Cercola al centro Fibab Caravita ma adiacente al palazzetto dello sport dove gioca assolutamente la DHS Napoli Calcio Cinque nella tendo struttura che ospita la stella nascente club di serie C due affidato quest'anno a Vito Letizia e club partner di appunto cinque come c'è Carmine Sposito ciao Carmine ciao Fabio buonasera a tutti allora parliamo di serie C due c'è subito Cristiano Finamore dietro le quinte che ci viene a sfottere giustamente allora parliamo di serie C due e partiamo dal girone A con i risultati a Versa Bellona 5 Socher 5 a 2 Real Boys Maddaloni Benevento 8 a 4 Stregoni Boca 2 a 2 Leone Cales 4 a 3 Casa Giove Cittadinano 5 a 2 Sport e Vita Casino 1 a 4 le due torri Junior Domizia 8 a 6 per una classifica che vede le due torri Maddaloni leader a 33 punti Leone a 31 Real Boys 28 Casa Giove 27 con lo Junior Domizia Stregoni 24 Benevento 23 Cales 22 con la Boca a Versa 21 e via via tutte le altre allora Carmine in questa giornata prima di tutto penso che ci sia da segnalare la prima vittoria no era successo la scorsa settimana lo Sport e vita sì con la città di Ariano la settimana la scorsa mi ero confuso però c'è stato un recupero che non abbiamo segnalato perché la scorsa settimana eravamo già andati in onda la vittoria del derby tra Panniello e Lieto è andata alla secondo dal mister un po più grande diciamo mister Lieto vincendo 4 a 2 il Boca Fuzzle che si proietta a metà classifica il pareggio nel derby Sanita con lo Stregoni lo riporta sempre avendo una classifica corta nella metà classifica zona play out ma si sa che con una vittoria subito si può proiettare verso il quinto posto invece l'altro l'altro recupera tra Fai Vaves e Real Boys che è finito 1 a 1 però Real Boys che grazie alla vittoria di sabato appunto contro il Benevento si proietta al terzo posto approfittando del del quinto capo in trasfetta dello Junior Domizia che torna a perdere dopo aver vinto in casa. Scusami carmi che cosa è successo proprio del big match tra le due torri Maddaloni e Junior Domizia una partita combattuta decisa all'ultimo istante una doppietta di Briganti. Botta botta e risposta tra le due squadre fino al 6 al 6 tiro libero per l'Union Domizia sbagliato nel contropiede la squadra di Gigi Dalicando ha preso il 7 a 6 di senso di Briganti nel finale anche l'8 a 6 sempre da Briganti una partita che si è giocata da Filsirena traettino ha specificato i primofi di punto 5 che c'erano delle vecchie ruggini con le due torri che sono state risolte ha tenuto a dirlo e sottolineare anche soprattutto che c'è stata una direzione gara perfetta che ha tenuto a dirlo perché lui ha sempre criticato i albitraggi anche in generale non solo per la sua squadra invece ha tenuto a dire che essendo un big match da prima e terza alle sede pomeriggio un big match aspettato da tutti alla fine l'abito si è comportato in maniera egregia. Che aria si respira in casa della capolista invece le due torri Maddaloni che ormai da qualche settimana sono lì e stanno cercando di arrivare all'altraguardo finale più ambito? Cercheranno sicuramente fino alla fine di poter vincere il campionato l'anno scorso i due torri Maddaloni hanno totalizzato 40 punti in totale adesso già ne hanno 33 al giro di Boa più uno quindi sicuramente una squadra che dirà la sua insieme a Leone Acerra che sicuramente alla fine a lungo andare diranno la loro ma Leone Acerra scusami targato sempre Michele Tufano una vittoria sofferta contro il Cales buona squadra anche in questo caso Leone Acerra che partita è stata? Che momento sta vivendo il club di Puzzone? Dopo la sconfitta interna con Real Boss Maddaloni mi sembra un mese fa la squadra di Puzzone si è ripresa Tufano e Spaziano hanno preso le retini della squadra per vincere col Cales non è mai facile perché Cales ricordiamo è l'unica squadra che aveva spugnato Maddaloni perché le due torri Maddaloni hanno perso una sola partita contro il Cales appunto di Mario Cipro e di Gianluca Cioppa che ha 20 reti a quinto posto della classifica marcatori quindi alla fine è un Cales che darà sempre fastidio sarà una mina vagante terza vittoria in casa quindi per il Leone Acerra mentre le due torri Maddaloni scusami se torno è alla quinta vittoria in casa consecutiva al miglior attacco in casa con 53 reti e miglior attacco generale con 89 reti. Perfetto abbiamo detto tutto sul girone A altre cose dobbiamo aggiungere? C'è un cambio nel Real Boys Maddaloni c'è un indiscrizione al punto 5 che ne abbiamo parlato ne parlerò a breve il Real Boys Maddaloni ha cambiato allenatore anche al terzo posto Pernice non è più l'allenatore secondo indiscrizioni dovrebbe essere Cuono Soriano l'ex tecnico del club paradiso c'era fino a due mesi fa poi si è dimesso dovrebbe essere lui. Bisogna vedere se non era tesserato perché se era tesserato non può allenare altrimenti potrà dare solo una mano sì altrimenti darà solo una mano all'esterno dovrebbe essere lui. Siamo sempre nel gioco delle ipotesi il gioco del condizionale bisognerebbe vedere di sicuro Pernice non è più l'allenatore del Real Boys Maddaloni lo stesso Cignolo ha salutato tramite un messaggio su Facebook torna a perdere lo sport e vita che aveva vinto la settimana scossa invece torna a vincere il Casinimo dopo due mesi fuori casa seconda vittoria esterna primo pareggio per Gerardo Lieto come ho detto prima non è mai pareggiato il Bocafuzza però il Bocafuzza ha da recriminare perché al sessantesimo i ragazzi di Gerardo Lieto si sono divarato un gollo sotto la porta la potevano vincere in casa con gli stegoni che stegoni che in casa zoppicano un po'. Faiva Versa che invece torna a vincere dopo due turni Franceschetti è sempre il leader della classifica a marcatori con 30 terretti seguono Tauro a 28 e Brusino a 29. Perfetto Busino allora prossimo turno Casinim casa Giove Bellona alle due torri Città del Reano Leoni Boca Real Boys Maddaloni Juno Domizia Sportivita Cales Stregoni Benevento Faiva Versa è in dubbio che i riflettori saranno puntati tutti sulla sfida tra Boca e Real Boys Maddaloni. Gerardo Lieto sicuramente la preparerà come saprà lui ma Real Boys Maddaloni è un'ottima squadra ricordiamo che Real Boys Maddaloni è una squadra di neopromossa che ha confermato tutti i giocatori che lo scorso anno hanno vinto il canone di sedi con quattro giornate di anticipo però come ben sappiamo c'è anche un'ottima partita come Benevento e Versa e Cales Stregoni che a causa di una classifica corta sono tutti sconti diretti. Assolutamente assolutamente e noi ovviamente vi terremo aggiornati come sempre su .5.it con gli speciali curati da Carmine Esposito già il sabato in tempo reale con il live e i risultati della serie C2 con il punto sui tre gironi con la classifica cannonieri e con tutto quello che scoprite durante la settimana anche su questo spazio televisivo che abbiamo ogni mercoledì alle 23 su Telecabri Sport io lo ricordo perché a volte me lo chiedono a volte non vai in onda il mercoledì però ci sono sempre le repliche del giovedì alle 17 del venerdì alle 19 del sabato 12 però i video sono già online con la sala stampa dei club a parte di punto 5 con i video che ci arrivano sul nostro canale YouTube parliamo del gironi e B dunque partendo dai risultati della quattordicesima giornata San Marco Cusnapoli 4 e 2 Ischia Saviano non si è disputata qui grandi polemiche ce le racconterà Carmine è il poble millennio club paradiso acerra 7 e 3 international lpg group 7 e 2 turris magic 5 e 3 redas vip club 7 e 5 stella nascente artema la partita che noi abbiamo ripreso 4 a 3 con la classifica che vede la turris a 32 punti saviano 31 redas 27 lpg 25 il poble 25 vip 25 san marco 20 stella nascente 19 artema e cus 18 international 17 poi chiudono la magic a 13 ischia 8 paradiso acerra 3 punti in attesa del big match tra saviano e torris sabato prossimo che cosa è successo in questo turno io direi di partire proprio dalla polemica del saviano per questa partita che non si giocata giocata scusami a dischia si il saviano ha fatto il cosiddetto prericorso che da che si deve fare vento ventiquattro ore dalla disputa non disputa della gara che secondo i pesuviani la gara e la condensa sul parchea sulla falsa riga di un di un Lazio uomo a Napoli tu sicuramente te lo ricorderai dove la uomo a Napoli di mattiello vinse il ricorso secondo i pesuviani il campo poteva essere asciugato quindi sicuramente avranno le loro motivazioni per fatto il ricorso aspettiamo le decisioni giudizie sportive sicuramente sarà un danno per la squadra ospite perché giocare in settimana alle cinque del pomeriggio alle sei di orario federale in settimana con la gente che lavora con giocatori che lavorano sarà molto molto difficile andare lì a dischia con la turistica momentaneamente è cristiano finamore che rompe le scatole sempre lui cristiano finamore con la turistica momentaneamente è volata in vita alla classifica e sì quindi andiamo a vedere quello che è successo dunque anche nelle altre sfide con la turist che batte la magic 5 3 che cosa si è detto in questa gara turiste che torna a vincere perché aveva perso la settimana scorsa appunto in casa col vip club nei minuti finali sei vittorie due sconfitte in casa miglior difesa interna con 15 reti miglior difesa generare con 31 reti a sette giorni dalla dalla big match ricordiamo che sappiamo dovrà fare a meno di morlando e aprire le squalificati mentre la turista dovrebbe presentarsi con tutti gli effettivi sarà una grande partita pronto con quel quartetto dietro redas e le pg c'è anche le pg poble e vip club pronti a approfittare di qualsiasi risultato uscirà dal crocelle di ricordiamo che sarà anche una partita difficile anche da interpretare perché saviano gioca sull'erbetta sintetica mentre arriva la pallonata tipica di ogni settimana alla nostra telecamera e dicevamo mentre la turista gioca sul sul parquet quindi anche l'interpretazione di del gioco vedremo la turista squadra da grande esperienza con la con il saviano invece che farà valere probabilmente la sua il suo maggiore tasso tecnico in questo momento con giocatori di grande qualità bisognerà vedere anche le condizioni del tempo perché negli ultimi tempi piove e quindi un campo pesante potrebbe comunque sfavorire ancora di più la turista perché giocando in un giocando in un campo completamente aperto amore non capisce che non deve passare davanti alla telecamera ma lo fa lo stesso divertendo e sicuramente le condizioni metrologiche pure faranno la loro parte aspettiamo sabato ma la turista è una squadra di esperienza con giocatori che hanno giocato in categorie superiori sicuramente l'erbetta non può rappresentare un problema per gli uomini di volpe perfetto altre gare col San Marco che vince in casa abbiamo detto le proprie che conferma il suo buon momento e poi le due battute d'arresto tra proprio del VIP e dell'LPG Group l'LPG Group una partita da dimenticare sul campo di un ottimo international international che lo disse la settimana scorsa ho predetto che l'international di questi tempi vola e l'ha dimostrato che con sei sette giocatori in una condizione strepitosa infatti Orsini è il capocannoniere del girone B con ventunori grazie al poker rifilato ai Casoriani l'LPG Group non è scesa in campo ha giocato malissimo dal primo fino al sessantesimo minuto invece la squadra di Muggione è volata durante la partita invece il suicidio totale del VIP che al 5 minuti al termine vinceva 5 a 3 Daniano con un uomo in più con un tiro libero a favore ha perso 7 a 5 terza abbattuta al resto negli ultimi minuti per la squadra di abbondanza Redas invece che approfitta di questa vittoria che la quinta vittoria in casa e vola la terza porza mentre il VIP la sua quinta sconfitta in trasferta l'LPG terza sconfitta in trasferta. Stella Nascente Arte ma ne parliamo tra poco con l'ospite ovviamente col tecnico Vito Letizia che parlerà un po' a 360 gradi anche nel girone B di serie C2 andiamo a leggere il prossimo turno Arte ma International Cus Virtusisca e l'LPG Group e il Poble bella partita anche questa VIP stella nascente altra sfida molto interessante Paraliso San Marco poi i Magic Redas e soprattutto Saviano Turris. Siamo sulla falsa riga del girone A qua avendo tutte le la classifica corta tra il primo e il settimo posto si incontrano si si incrociano squadre e tutti i scontri diretti ovviamente i fari puntati sono tutti a Saviano tra Saviano e Turris ma occhio l'LPG e il Poble che arrivano a pari punti con la squadra di Gargiulle che viene da da quattro risultati utili consecutivi tre vittorie a un pari che sicuramente verrà farsi una partita contando che Gargiulle è Casoriano quindi per lui sarà un piccolo debito per lui per Marrone e per incoronato che sono tre Casoriani toc e sarà una gara tutta da valutare. I numeri di questo girone? Sì tu allora la classifica a marcatori come ho detto prima Orsini ha il capogagnolo con 21 redi secondo Coppola e Bisconti a 19 Nastri all'omia e 17 la Turris come ho detto ha la miglior difesa con 31 redi subite mentre Saviano comunque rimane miglior attacco generale con 74 redi miglior attacco interno con 42 e anche miglior attacco esterno con 30 anche se non ha giocato a dischia. Allora scusi poiché Letizia lo sentiremo dopo nell'intervista della formazione della stella nascente che ha rilasciato a punto 5 ci sentiamo fin amore così un giocatore esperto lui che ci scoccia fino adesso per un po' una carrellata proprio su questo questa serie C2 ma anche un piccolo passaggio sulla serie C1 giocatore di grande esperienza e poi torniamo qui per chiudere il nostro appuntamento parlando del girone Cire state con noi e come hai detto è uno spazio dedicato alla serie C2 c'è un ospite questa settimana che è Cristiano Finamore portiere della stella nascente. Ciao Cristiano. Ciao Fabio. Allora un'avventura nuova per te l'hai vissute tante in tante squadre però questo è un gruppo che ti piace mi hai detto prima di trolle quinte. Sì diciamo che l'anno era iniziato con ottimi prospetti perché è la Redas che mi hai cercato da anni ringrazio tutta la società poi a dicembre per problemi che non sto qui a raccontare ho cambiato sponda e onestamente sono stato chiamato da questa nuova realtà e ti dirò che sono ottime persone e un ottimo gruppo quindi spero di dare un mio contributo per salvarci tranquillamente. Che partire è stata sabato sofferta in rimonta poi alla fine spesso in casa avete buttato via punti nonostante qualche primo tempo giocato bene? Sì sabato è stata una partita molto particolare anche perché gli avversari sono tutti tutte persone che io conosco che hanno giocato a livello e ci hanno dato un po' fastidio nella parte finale soprattutto però poi fortunatamente ho fatto qualche piccolo intervento fortunatamente e quindi. La fai quindi te la capi ancora? Sì sì ce la faccio ancora. Ebbene fisicamente ti sei ripreso. Sì sì grazie. E niente quindi abbiamo portato questi tre punti per noi fondamentali anche se sabato diamo una trasferta molto difficile con gli amici del VIP e speriamo bene speriamo bene. Un campionato di serie C2 girone B che secondo te ha inquadrato già chi se la giocherà fino alla fine o possiamo aspettarci qualche sorpresa? Saviano Turris oppure? Io mi auguro che vada bene anche la Redals perché sono tutti amici e anche se poi il Saviano in casa è un fortino ed è difficile difficile vincere lì. La Turris è bene organizzata poi c'è l'amico mio Maritiello Fierro però il Saviano in casa non perde punti quindi penso che alla fine possa vincere lui anche se sabato lo so che sta lo scontro. Lo scontro detto con la Turris l'abbiamo detto prima con Carmi. È un campo molto particolare quindi sarà una bellissima partita. Sicuramente sicuramente una grande sfida tra Saviano e Turris il calore dei tifosi del Saviano la compattezza e l'esperienza dei giocatori della Turris vedremo speriamo una grande partita di calcio 5. Grazie a Cristiano Finamore però adesso continuiamo con la Serie C2 e lo ritroviamo nello spazio della Serie C1 con i pronostici del prossimo turno. E chiudiamo parlando del girone C di Serie C2 Sant'Andrea Pagani 7-4 Dalmazia Montella 0-4 Real Pagani Ottaviano 2-4 Pompei Reghinna 8-3 Cesinali San Gregorio 11-2 Oplonti Sarno 5-4 Real Amalfi Vittoria Solofra 4-4 un sacco di 4 in questa giornata classifica Cesinali 42 Vittoria 35 Ottaviano 33 Reghinna 28 Real Amalfi 25 Sarno 21 Oplonti Sant'Andrea 16 Montella Dalmazia 14 Colaltetico Pagani Lupe 12 San Gregorio 8 Real Pagani 6 dunque che cosa è successo Carmi? Si è fermato di nuovo il Vittoria Solofra sempre in costiera sempre anche con lo stesso risultato perché gli uomini di generale avevano pergiato 4-4 con la Reghinna hanno pergiato 4-4 con Real Amalfi con il Cesinali che vola a più 7 attualmente dalla seconda posizione Ho sentito o ho letto un generale piuttosto arrabbiato anche su Facebook credo che se l'è presa un po' con la squadra vinceva 4-2 ha preso due reti nel finale 4-4 e ha quasi il campionato non dico che è chiuso ma con 7 punti di vantaggio Cesinali che ha realizzato 14 vittorie consecutive si fa dura per il Solofra soprattutto perché si è rifatta sotto l'Ottaviano che con 5 vittorie consecutive si è messa a meno 2 con un Enè in gran evidenza 12 reti in 5-6 partite Enè sta scalando la classifica marcatori invece è una battuta da l'unico interista che funziona in questo momento si è obiettivo Reghinna Minnore invece che ha la sua terza sconfitta consecutiva c'è da dire che per gli uomini di Farace c'erano 11 indisponibili nella terza sconfitta consecutiva contro il Pompei però voglio anche sottolineare l'ottima prestazione del Sant'Andrea Futsal di Solofra con il direttore generale Venturino Nevola che ha rifondato la squadra a dicembre e attualmente è fuori dalla zona play out ecco che cosa è successo nelle altre sfide che cosa possiamo dire sulle altre Loplonti in la zona bassa della classifica abbiamo detto ha vinto 5 a 4 col Sarno una partita importantissima per allontanarsi no quindi dalle zone calde successo d'oro dell'Oplonti sul Sarno che in questo momento insieme al Sant'Andrea è uscito fuori dalla zona play out vendetta tra virgolette invece del Montella che ha vinto anche all'andata col Dalmazia per poi perdere 6 a 0 a tavolino a causa che c'è un giocatore del Montella che era squalificato se l'è vendicato sul campo ovviamente calcisticamente parlando per il 4 a 0 importantissimo perché l'ha raggiunta in classifica invece il Real Pagani deve ovviamente il calendario non è stato da parte della squadra di Palatino autore di 18 redi perché fin qui l'ha incontrate tutte le prime 4 le prime 5 quindi sicuramente non erano quelle le partite da vincere doveva fare qualcosa in più negli sconti diretti prossimo turno e poi i numeri Sarno Pompei Ottaviano Cesinali eccolo il big match anche nel girone C Regina Minor Amalfi Vittoria Solofra Sant'Andrea Pagani Dalmazio Atletico San Gregorio Plonti Montella Real Pagani si giocherà alle 18 reale Ottaviano Real Cesinali già è stato comunicato su Facebook e l'Ale Ottaviano ha comunicato a tutti gli enti che la partita si giocherà alle 18 secondo pareggio per il Vittoria Solofra quattordicesima vittoria consecutiva per i Real Cesinali che ha ufficializzato Gennaro Aprile classe 89 classe 90 siamo difensori Eccasa Napoli Lepanto c'era un piccolo dubbio perché già c'era un'altra Aprile era un fratello fratello più piccolo che giocava con Aprile adesso anche Gennaro Aprile fa parte del Real Cesinali 100 reti per i Real Cesinali in questo giro di Vap1 27 reti subite miglior difesa miglior attacco miglior differenza reti esposito è sempre a capo della classifica a marcatori con 26 segue pizza 23 21 annunziato è tornato a giocare su Arato subito Toppette va al 19 va bene va bene abbiamo detto credo tutto no su questa ampia carrellata dedicata come sempre alla serie C2 prima di lasciarci per vedere poi gli highlights oppure per chi ovviamente per chi quell'appuntamento per chi è sul sito li trova sul nostro canale YouTube dicevamo con la la settimana scorsa che hai fatto questo punto sui tre gironi qui hai specificato praticamente tutto no? quasi minuto per minuto andamento generale in casa in trasferta squadre che ha fatto più punti ha avuto molto successo perché ho visto che tante persone l'hanno condiviso e girone A girone B, girone C si vive togliendo il Cesinali che ha fatto man bassa ha vinto tutte è stato rispetto agli altri due anni entrambi i tre gironi c'è stato abbastanza equilibrio soprattutto nel girone A dove in sette punti ci sono dieci squadre una cosa incredibile è sicuramente una serie C2 ancora più bello oggi l'ha scritto Nene sotto un commento su Facebook sotto la classifica marcatori che giocatori ci sono in C2 perché appunto vedendo la classifica marcatori nel girone C tutti i giocatori che fino all'anno scorso fino a due anni fa erano tutti in C1 a lottare per vincere il campionato per andare in serie B. Qualcuno che ha fatto anche la storia nelle categorie nazionali va bene così gli appuntamenti sul nostro gruppo Facebook punto 5 quelli della serie C2 nostro canale YouTube ovviamente su punto 5 punto it seguiteci sempre come state facendo con tanto affetto grazie a Carmine Sposio da Fabio Moretuto alla prossima ciao ciao